Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Sul Mediterraneo centrale è in atto una rimonta anticiclonica di matrice africana, indotta da una profonda circolazione ciclonica presente in Atlantico. Previsto per la Calabria quindi un fine settimana di pieno stampo primaverile, soprattutto nella seconda parte di sabato e nella giornata di domenica. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Oggi nuvolosità variabile al mattino con locali residui piovaschi sui settori tiranici centro-settentrionali. Nel corso della giornata un deciso miglioramento a partire dalla sud con ampie schiarite investirà tutto il territorio. Temperatura in aumento. Domani sarà una giornata di piena primavera con semplici velature innocue di passaggio sul territorio. Temperature in ulteriore lieve aumento. Passiamo ora ai mari e venti. Oggi venti deboli dei quadranti meridionali con mare generalmente poco mosso ovunque. Per domani venti moderati da sud sullo Ionio e su Basso Tirreno con mare mosso. Deboli sempre da sud sui restanti settori del Tirreno con mare poco mosso. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortesia attenzione. Appuntamento a domani.